Ciao a tutti ragazzi, qua FedeTutorial e sono tornato con questo nuovo video. Come vedete oggi sono qui con un tutorial sempre sul nuovo jailbreak, dato che stanno uscendo davvero tantissimi aggiornamenti e ci tengo a farvi vedere sempre il metodo più nuovo ed aggiornato per fare questo jailbreak, in modo che non abbiate nessun tipo di problema. Pangu, ovvero il team che ha realizzato questo jailbreak, ha da poco aggiornato il suo tool. Ed ora è possibile installare la versione inglese dell'applicazione, quindi del jailbreak, con il certificato che dura un anno. Se non capite molto bene tutto quello che sto dicendo, vi invito a cliccare in questo momento nella i che trovate qui in alto a destra per andare a vedere il mio vecchio tutorial in cui vi mostro un altro metodo sempre per fare questo jailbreak e oltre a quello vi spiego tantissime cose, tra cui anche questa differenza di certificato un anno, l'applicazione cinese, l'applicazione inglese, eccetera. Vi invito a guardarlo per sapere tutte le informazioni su questo jailbreak, in modo che anche voi siate aggiornati. Oltre a tutte queste spiegazioni, sempre nel mio scorso video, vi avevo fatto vedere un altro metodo per fare questo jailbreak. Quello ovviamente funziona ancora, dato che funzionerà sempre, però ci permetterà di installare la versione cinese di questo jailbreak e non la versione inglese, che vi andrò a far vedere in questo video. Questo jailbreak, poi, che vi andrò a far vedere ora, sarà molto più stabile e soprattutto non darà nessun tipo di errore, dato che è stato, come ho già detto, aggiornato. Un altro vantaggio è che è disponibile sia per Windows che per Mac. Come ho già detto, per capire bene il tutto e anche il perché di questo video, dovete per forza guardare il precedente dove vi dico un po' tutte le informazioni generali di questo jailbreak. Vi ho chiesto su Telegram di votare il prossimo tutorial ed ha vinto questo qui, ovvero il nuovo jailbreak di Pangu. Vi invito a seguire il mio canale Telegram che trovate in descrizione perché caricherò davvero tantissime cose del genere e molte informazioni utili. Il metodo che vi andrò a far vedere oggi comunque è, e credo che rimarrà sempre, il miglior metodo per fare questo jailbreak senza nessun problema o errore. Detto questo, andiamo con ordine e vediamo subito come installarlo. Innanzitutto ci tengo a dire che questo jailbreak è compatibile solamente con dispositivi a 32 bit, quindi questi che vedete qui a schermo mi dispiace ma se avete ad esempio un iPhone 5, un iPhone 5C o comunque sia uno in generale che non è scritto qui in questo momento, mi dispiace ma chiudete il video perché non potete fare in nessun modo questo jailbreak. Questo jailbreak è poi compatibile con iOS 9.2, 9.2.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3. Da poco Apple ha rilasciato anche iOS 9.3.4 ma se tenete al jailbreak non aggiornate per nessun motivo, dato che su quella versione non è possibile fare il jailbreak. Se aggiornate per sbaglio in questi giorni avete ancora la possibilità di tornare indietro ad iOS 9.3.3 ma questo avverrà solamente per un paio di settimane massimo, dopodiché Apple smetterà di firmare iOS 9.3.3 e non potete più tornare indietro. Quindi fate attenzione, non aggiornate ad iOS 9.3.4. Come vedete io in questo momento ho già un jailbreak, infatti sono qui con il mio iPhone 6 che come vedete dalle mie impostazioni generali info ha installato iOS 9.3.3, quindi l'ultima versione supportata dal jailbreak. Però comunque sia come vedete io ho già un jailbreak installato, infatti potete vedere che ho Cydia, ho un tema installato e questo perché ho utilizzato il mio vecchio metodo che vi ho mostrato nel video di un paio di giorni fa. Come ho già detto quello infatti funziona ancora e come vedete vi permetterà di fare il jailbreak. Oggi però vi mostro il metodo aggiornato, quello che funziona ed è più stabile e vi dico già che potete farlo ed è la stessa identica cosa sia se già avete un jailbreak, come nel mio caso, oppure se avete un dispositivo non jailbroken ma volete appunto fare il jailbreak direttamente con questa versione molto più stabile senza passare tramite l'app cinese. Questa quindi è un'ottima notizia soprattutto ora che è uscito iOS 9.3.4 infatti in questo caso se voleste rimuovere il jailbreak dovreste per forza aggiornare ad iOS 9.3.4 e lo perderete per sempre. Ma come ho già detto c'è la soluzione dato che non c'è bisogno di formatare il tutto ma possiamo tra virgolette sovrascrivere questo nuovo jailbreak di Pangu sopra quello cinese e tutti i tweaks che avevamo installato tutte le impostazioni rimarranno invariati, state tranquilli. Quindi se come me avete già il vecchio jailbreak con l'applicazione cinese basterà semplicemente eliminarla, quindi cancellarla definitivamente dal dispositivo. State tranquilli perché come ho già detto Cydia e tutti i tweak rimarranno funzionanti. Se non avete un jailbreak semplicemente saltate questo passaggio dato che non avrete l'applicazione cinese e cominciamo quindi subito a vedere come installare questo nuovo jailbreak. Come ho già detto ci servirà un pc Windows oppure Mac o addirittura anche Linux però non ve lo consiglio. Eccomi qui infatti che sono direttamente sul mio computer Windows. Basterà semplicemente cliccare nel link che vi metterò qui sotto nella descrizione che vi porterà in questa pagina di Pangu Jailbreak ovvero il sito ufficiale di Pangu. Una volta arrivati qui basterà cliccare su questo bottone rosso al centro e si aprirà automaticamente un'altra pagina. Ora per prima cosa clicchiamo questo bottone dove c'è scritto download per avviare automaticamente come potete vedere il download del file IPA per installare la nostra applicazione. Successivamente qui troverete una breve guida scritta in inglese però state tranquilli perché vi guiderò io durante tutto il tutorial. Ora dovremmo anche cliccare su questo link www.cdimpactor.com e si aprirà automaticamente un'altra pagina. E qui dobbiamo scaricare anche questo pacchetto per cui qui troveremo i vari link di download a seconda se abbiamo un Mac, Windows oppure Linux a 32 o 64 bit. In questo caso io ho Windows quindi vado a cliccare sulla scritta Windows. Voi in base al vostro computer scaricate la giusta versione. Una volta terminato il download vi ritroverete con due file uno di Sedia Impactor e un altro dell'IPA di Pangu Jailbreak. Può volerci anche abbastanza tempo per scaricare l'IPA ovviamente dipende dalla vostra connessione, comunque sia i server sono in Cina per cui è normale che vada abbastanza lento. Una volta scaricati entrambi comunque ve li ritroverete nella vostra cartella dei download io in questo caso ce l'ho nel mio desktop per comodità e troverete appunto il file di Sedia Impactor sotto formato RAR e invece il file di Pangu Jailbreak sotto formato IPA. Innanzitutto facciamo un tasto destro sopra il file di Sedia Impactor e clicchiamo su Estrai i file in Impactor 0.9.31. Ora aspettiamo che termini l'estrazione ed ecco qui che troveremo una cartella di Sedia Impactor. Ora apriamo la cartella che abbiamo appena estratto e facciamo un doppio clic sopra il file Impactor. Mi raccomando fateci solamente un doppio clic e non apritelo come amministratore altrimenti può dare dei problemi. Una volta aperto ecco qui che ci compare subito il nostro programma a questo punto colleghiamo il nostro dispositivo Apple al computer per cui io vado a collegare il mio iPhone 6 cercate di utilizzare solamente i cavi ufficiali o comunque non utilizzate hub o sdoppiatori per collegarlo al computer ma collegatelo direttamente con il cavo ufficiale Lightning. Ecco qui che mi ha trovato subito il mio dispositivo automaticamente e anche Sedia Impactor me l'ha riconosciuto subito iPhone di Fede Tutorial. Il dispositivo appunto che ho collegato. Se Sedia Impactor o comunque più in generale il computer non vi rileva il dispositivo assicuratevi di avere installata l'ultima versione di iTunes sul computer. Non dovremo aprirlo durante il procedimento ma è obbligatorio averlo installato sul computer. Nel caso non ce l'aveste vi lascerò il link per scaricarlo qui sotto in descrizione. Una volta che Sedia Impactor ci avrà trovato il nostro device prendiamo il file IPA che abbiamo scaricato precedentemente del jailbreak di Pangu e lo trasciniamo appunto all'interno del nostro programma. Ora ci chiede di accedere con il nostro Apple ID. Mi raccomando inseritelo correttamente. State tranquilli perché i dati serviranno solamente per installare la vostra applicazione sul dispositivo quindi saranno al sicuro. Inserite il vostro ID Apple che avete anche sul vostro dispositivo. Mi raccomando deve essere corretto. Ora ci chiederà anche la password, anche questa inseriamola correttamente come ho già detto è sicurissimo. E una volta fatto ciò clicchiamo su ok. Ora attendiamo e non clicchiamo nulla. Sedia Impactor come vedete ci darà una serie di codici. Attendiamo finché l'applicazione di Pangu Jailbreak non sarà installata nel dispositivo. Se ci compare questo messaggio di errore clicchiamo su ok ed attendiamo che termini tutto il procedimento. Una volta fatto ciò come vedete sarà comparsa automaticamente l'applicazione di Pangu sul nostro dispositivo e quindi significa che tutto è andato a buon fine. Come ho già detto con questo nuovo metodo è praticamente impossibile avere un errore dato che tutto avviene in un modo molto semplice. Una volta che l'app si sarà installata correttamente sul vostro dispositivo potete anche chiudere Sedia Impactor e scollegate il device dal computer dato che oramai non vi serve più. Ora il mio dispositivo non è più collegato al computer assicuratevi invece di essere connessi alla rete wifi oppure alla rete cellulari o più in generale insomma connessi a internet. Ora andiamo ad aprire la nostra applicazione di Pangu appena installata. Come vedete ci darà subito un errore. Per risolverlo semplicemente andiamo nelle nostre impostazioni andiamo su generali scorriamo in basso fino a trovare profilo o gestione dispositivo dipende dalla versione del vostro iOS cliccate sul profilo con il vostro ID iCloud che avete inserito prima cliccate su autorizza e poi di nuovo su autorizza. Fatto questo tornate nella vostra home e aprite l'applicazione di Pangu. Se vi chiede di abilitare le notifiche mi raccomando molto importante clicchiamo su ok. In questo caso a me dice che il jailbreak è stato già effettuato dato che in realtà infatti come potete vedere io l'ho già fatto. vado quindi a spegnere e poi riaccendere il dispositivo dato che è semi-tethered in modo che una volta riavviato sarà come se non avessi più il jailbreak e quindi posso farvi vedere tutti i passaggi che dovete fare. Ecco qui che ho appena riavviato il mio dispositivo quindi andiamo a sbloccarlo e come vedete non c'è più traccia del jailbreak o meglio si dia c'è ma come vedete se la vado ad aprire crasha. Questo perché questo jailbreak è semi-tethered il che significa che ogni volta che lo spegneremo completamente ogni volta dovremo riattivare tra virgolette il jailbreak. Comunque sia vi andrò a far vedere che ci vuole davvero pochissimo quindi non è affatto un grande problema. Vado quindi ad aprire l'applicazione di Pangu se voi non avevate il jailbreak praticamente questo procedimento non consideratelo. Una volta aperta ecco qui che mi compare la vera e propria schermata non più quella che avevo prima quindi se non avevate il jailbreak la prima volta che l'aprite vi comparirà subito questa schermata. io ho dovuto spegnerlo e poi riaccenderlo perché avevo già fatto il jailbreak. Una volta arrivati qui comunque cosa molto molto importante mettete questa spunta perché da ora questa applicazione Pangu che prima doveva essere installata ogni settimana sarà autorizzata fino ad aprile 2017. Non vi servirà più nessun computer niente di niente perché l'applicazione rimarrà sul vostro dispositivo. Mi raccomando fatelo perché altrimenti dovrete rifare il procedimento di CDA impactor ogni sette giorni. Una volta messa la spunta clicchiamo su start e a questo punto quando ci dice please unlock screen and wait a few seconds aspettiamo cinque secondi e poi blocchiamo il nostro dispositivo. Ora attendiamo che ci arrivi una notifica eccola qui jailbreak succeeded but still need a few minutes to resping. Quindi attendiamo e come vedete il dispositivo si riavvierà automaticamente. Ecco qui che il dispositivo si è appena riavviato quindi andiamo a sbloccarlo e una volta fatto ciò ecco qui che ho di nuovo il mio jailbreak. Ora io ho il tema installato e tutto quanto perché come ho già detto già avevo fatto il jailbreak in precedenza. Se voi l'avete fatto per la prima volta ci metterò un po' di più a fare il resping e una volta fatto troverete finalmente CDA installata sul vostro dispositivo. Ora se andiamo di nuovo ad aprire l'applicazione di Pangu come vedete ci dice jailbreak succeeded e non ci fa cliccare su start proprio perché abbiamo il jailbreak funzionante. E cosa molto importante se andiamo nelle nostre impostazioni generali e scorriamo in basso su profilo o gestione dispositivo non abbiamo più il profilo del nostro ID Apple che abbiamo inserito prima ma ne troveremo un altro Beijing, Hongyang, Online Technology eccetera eccetera che è il profilo che Pangu ha installato che dura un anno. Non clicchiamo su autorizza, non facciamo nulla questa applicazione sarà autorizzata e quindi si aprirà senza nessun problema fino ad aprile 2017. Il che significa che se spegnete per sbaglio oppure perché si scarica la batteria e riaccendete il dispositivo e il jailbreak non funzionerà automaticamente più vi basterà aprire l'applicazione di Pangu cliccare di nuovo su start e dopo alcuni secondi il dispositivo si riavvierà di nuovo e vi funzionerà ancora il jailbreak. Quindi è tutto molto molto semplice e questo metodo credo che sia il definitivo e quello più funzionante di tutti. Se avete degli errori specifici dopo aver fatto il jailbreak vi invito a cliccare in questo momento nella i che vi inserirò qui in alto sempre per andare a vedere il mio vecchio video dove oltre a farvi vedere un altro metodo per fare questo jailbreak anche se vi consiglio altamente questo invece dell'altro vi andrò anche a spiegare come risolvere gli errori più comuni che si riscontrano dopo aver fatto il jailbreak. Vi consiglio di usare il menu che trovate nella descrizione per spostarvi nel video e selezionare l'argomento che preferite. Detto questo ragazzi il tutorial per oggi è finito spero che vi sia stato utile se così vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi anche al mio canale passate nella mia pagina facebook e nel mio canale telegram tutti i link li trovate qui sotto nella descrizione commentate se avete qualsiasi tipo di problema o per qualsiasi cosa che cercherò di rispondervi il prima possibile ed infine la cosa più importante di tutte condividete questo video dovunque con i vostri amici per fargli scoprire un altro metodo ancora per fare questo nuovo jailbreak definitivo ma soprattutto per aiutarmi a farmi crescere e da FedeTutorial è tutto noi ci becchiamo in un prossimo video ciao raga ciao